Siamo messi piuttosto bene. Richiesta di supporto. 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 aiuto ha rilevato un avamposto alleato nelle vicinanze incredibile ce l'abbiamo fatta bersaglio vicino non 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 Grazie a tutti. 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 Potrei davvero farmi un paio d'ore di sonno? Grazie a tutti. 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 Uccidete a tutti. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 Deposito rifornimenti sbloccato. 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 accesso al deposito rifornimenti sbloccato cosa sarebbe successo se non fossi arrivato tu il 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 Sì! accesso deposito rifornimenti sbloccato vada da solo dispositivo elettronico portati e rilevato vada da solo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.